Ciao ragazzi, ben ritrovati sul mio canale YouTube. Natale è passato e in questo periodo sono stata un po' assente perché presa da mille impegni, però ci sono e questo è l'ultimo video dell'anno 2018 in cui vi mostro come realizzare in pochissimi secondi un segnaposto per il cenone di Capodanno. Eccola qui, la mia scopetta portafortuna. La scopetta portafortuna è perché si dice che scacci via tutti i brutti pensieri, tutti i guai e in più ci ho aggiunto tre numeri fortunati della tumbola e i numeretti 2019. Sarà un segnaposto credo molto apprezzato soprattutto nella mia amata Napoli, quindi saranno molto apprezzati dalla mia famiglia. Adesso vi mostro come realizzare. Bene, spero che questo segnaposto vi piaccia, non dimenticate di iscrivervi al canale con la campanella e di iscrivervi agli altri miei canali social e se il video vi è piaciuto di lasciarmi un bel pollice in su e qualche commento. Vi auguro veramente un felicissimo 2019 e che sia ricco di creatività. Ciao! 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 Ciao!